Vai! Vai vai! Ma stai a vedere un video? Si! Trov'è a fare Lo sai da tirare laggiù? Vai Zoro Capo lui devi fare una entrata diversa Cazzo che urlavi, facevi qualcosa Come prima Oddio ma sei prontizzato Ma che ci ha preso questo e l'averemo in bocca Dai cara, però non va bene Mettitela all'incontrata Come si stai citando quella scala in bocca Se... dai che ne fanno così Porco Mi ha guardato la psicomanica mi piace Puttaniere la maniera Fammi vedere che senso Potete fare le manette neanche Eh però all'incontrata Te le devi mettere le mani